Il distretto Veneto della Conce è localizzato nella Valle del Chiampo ed è il più grande comprensore italiano per produzione addetti, oltre la metà del totale nazionale. Da tempo il comparto si caratterizza per l'innovazione tecnologica, per la specializzazione produttiva e per il continuo miglioramento dei risultati sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Argomenti al centro di un incontro degli imprenditori e amministratori del distretto Conciario Vicentino col governatore del Veneto Luca Zaia presso la Rino Mastrotto Group S.P.A. di Arzignano. Il titolare del gruppo, Rino Mastrotto, che è anche presidente nazionale e vicepresidente europeo della categoria, conferma il nuovo momento positivo della Concia Vicentina. Sicuramente la Conciaria è partita, abbiamo tutti i segnali positivi, sia per quanto riguarda l'eco sostenibile, la Conciaria pulita, la competitività, tutto quello che vogliamo, perché oggi viviamo in un distretto di Arzignano, è un distretto specializzato, la specializzazione insieme con gli operai vale molto. E specializzazione significa produzione di eccellenza per settori specifici, primo fra tutti il mercato degli interni per l'industria automobilistica, grazie proprio alla qualità del prodotto e della lavorazione. Io credo che sia il prodotto in sé, il colore, il tatto, la naturalezza, credo che sia l'arte che abbiamo creato attorno a questa materia prima. Il futuro dunque, nonostante tutto, lancia messaggi confortanti. Vedo un futuro sicuramente di impegno, quello non lo devi mai molare, ma vedo un futuro, credo, meglio degli altri settori. Il distretto Vicentino della Concia guarda pertanto al domani con motivato ottimismo ed è molto di più di una sensazione a pelle.